L'emergenza coronavirus in Toscana non frenna il potenziamento dei presidi ospedalieri come l'ospedale della fratta Cortona dove il presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi hanno inaugurato i nuovi locali destinati all'attività chirurgica ginecologica. I nuovi ambienti saranno adibiti a esami come colposcopie, isteroscopie, laser chirurgico e prestazioni in dei hospital che ampliano l'offerta di un presidio importante per il territorio. Offre servizi importanti ai cittadini ma anche servizi di alta specialità per un bacino molto più ampio. Questo è possibile perché sta dentro una rete ospedaliera che è anche la rete di una dimensione aziendale molto vasta in cui il ruolo del piccolo ospedale non è quello di essere un peso economico ma una realtà che si può integrare, che può essere valorizzata. Grazie ai nuovi ambulatori infatti si rafforza il ruolo di riferimento dell'ospedale della fratta con un'integrazione tra le attività ospedaliere e quelle territoriali. L'azienda sta investendo sul rilancio dell'ospedale della fratta di intesa strettissima con la conferenza dei sindaci, i lavori al pronto soccorso, i lavori strutturali, il potenziamento dell'offerta ginecologica con l'apertura degli ambulatori e altre attività come il potenziamento dell'attività di oculistica rappresentano tre di tutte le azioni che l'azienda sta mettendo in campo per rilanciare questo ospedale.